Sì, possiamo andare a rapinare le banche adesso Ci sei? Sei pronta? Dai, muoviti il c***o Sì, sono qua Eh, sei lì un'ora per mettere sti guanti Eh, faccia l'intro Non so, che egoismo, subito che sali in moto Almeno salutare Per buone maniere Ciao fans Ciao fans E quindi? Adesso abbiamo salutato, possiamo andare Che per strada gli spieghiamo cosa andiamo a fare oggi Va bene Vai, andiamo È visto, grazie al teletrasporto siamo arrivati a Quincinetto Attenzione 2000 euro in autostrada E nella coda Gioia Ma il telepass Ma perché il telepass non vanno? Perché sia telepass che via card Che merda Ecco Fin qui è abbastanza divertente Le macchine un po' meno Perché poi c'è sempre uno davanti che andrà a 50 all'ora È tipo una sicurezza Che palle però Abbastanza So, fermiamoci Vabbè, zio, molto bello ma Amore Ti ricordi quando mi andavo a colpi? Ancora? Sì Proprio mentre stavo superando, tra l'altro E non penso che siamo così in alto, eh Devi fermarti E cosa faccio se mi fermo? Ma tipo solo quando supera un tot numero di giri lo fa Sì? Sì Sembra che ha la tosse Ma non l'aveva più fatto, eh È che si scalda troppo Non so come mai si scalda così tanto